Ehi ragazzi chat training bentornati qua su farmer dynasty ragazzi è passato un bel po' di tempo dall'ultimo gameplay perché volevo un po' aspettare Volevo vedere qualche aggiornamento qualcosina di nuovo perché alla lunga passare tutto il tempo solo a riparare le cose Diventava un po' noioso allora a quanto visto hanno finalmente sistemato la questione matrimonio E a quanto pare mo' è molto più semplice a sposarsi quindi ce voglio provare Quindi che facciamo andiamo ragazzi a prendere l'autobus e con quest'autobus vado vado a cercare una ragazza insomma ma è ovvio no Quindi 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 dove era quella ragazza la che stava a corteggiare era qui no si era qua Andiamo a vedere se c'è ancora quella ragazza ragazzi devo provare a quanto ne so con l'ultimo aggiornamento Hanno praticamente reso molto più semplice il corteggiamento Quindi se tutto va bene riesco magari forse a farcela questa volta Allora c'è sempre lì la tizia che è andata a mangiare le galline quindi vediamo un po' Ciao cara Ciao 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 non ci vediamo da un po' Gumoni 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 Allora sei così bella credo che devo fare sempre le stesse cose vero? Sei così bella E dopodichè finisce là vero? Immagino che poi devo sgobbare ancora parecchio non lo so Ok niente con questa mi sa che non mi cambia proprio niente Pensavo che quei due stavano a fa qualcosa raga Visto così dico ma che stanno a fa? L'uccellino lì Ciao Evelyn Cura di parlare E gumoni 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 Sembra la principessa sul Eh no non è quello che pensavo Vabbè comunque Sei un vero incantatore Oh Evelyn sembra apprezzarti un po' di più Però alla fine Alla fine Mi sa che qui c'è da sgobbare ancora Aspetta il messaggio è sempre quello vecchio Aspetta un po' Eh si è ancora quello vecchio Che a me guardi Gli hanno sistemati gli occhi a questo L'ultima volta ce l'hai Si però guardami no Io parlo dei tuoi occhi Questo guarda per terra Bah più o meno diciamo Sembra comunque hai degli occhi che fanno schifo Però almeno non ce li hai girati dall'altra parte Quanto meno Vabbè raga quindi che facciamo Torniamo a casa Perché comunque Non posso fare altri apprezzamenti Se prima non passa del tempo Quindi mi sa che ancora per sposarmi ci vuole tempo Dunque ho visto che c'era un lavoretto da queste parti E' una cosa di riparazioni Perché arare proprio Non c'ho proprio voglia Ripara un edificio Arare proprio non fa per me E' troppo troppo lento Troppo troppo lungo Chi è sto tizio che corre Vediamo un po' Uè chi sei tu E' una donna E' una donna L'ho ci provo pure con lei Becky Già se fai così mi sembri incavolata Più vicino perché non mi vedi bene Che c'hai gli occhiali da vista? C'hai gli occhiali quelli da vicino? Ciao bellezza E' così bello vederti Questo è un casa 9 E' così dolce Sei davvero carino Ciao Niente eh Manco un Non gradisce questa Non gradisce Good morning Good morning Good morning Good morning E' in bocca C'è qualcosa No eh Non la convinco Va bene Posso io Eh si Good morning E' tre volte Posso aiutarti? No Non al momento Vabbè ci vediamo Good morning Good morning Good morning Good morning No niente Good morning Vabbè raga C'è da lavorarci sopra Peccato perché comunque Era bello se non C'è il corteggiamento A quanto vedi Sto gioco è solo Sei bella Sei stupenda Eccetera 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 Era bello se mettevano Un ristorante E gli dicevi Sentici Vieni Che lo so Andiamo a mangiare qualcosa Andiamo al bar No? E giusto Era meglio così No? Invece Cioè qua In sto gioco Devi solo insistere Con i Con i complimenti Prima o poi Dice se si convince Con i complimenti No? Sembra che mi importi Non è che stanno a litigare I Zoe Ma non era un'altra tipo Poco fa Non volevo parlare Con un'altra Vabbè Sempre la principessa Ma Oddio Questa Questa c'ha una voce Completamente Diversa Non so Non so Con chi ho parlato Comunque Perché alla fine Sembrate tutto uguali Eh sì Ciao Ciao Volevo parlare Con Zoe Oddio Mi sto incastrando In mezzo alla porta Comuni Ma Tanto alla fine Non ne convinci Mai una Ciao Ma non so Qual è il prossimo passo Sbucherà Una domanda nuova Probabilmente Non lo so Io Ah Allora Ok Devo andare da là Devo andare da là Per parlare Con qualcuno Ah Le missioni Ce n'è due Un momento Dipende Che voglio Fa quella Trasporto Ripara Uno degli edifici Parliamo Con Sofia Allora Se è bellissima Te lo devo dire Prima di tutto Così Prima o poi Qualcuna Che medici Disposo La trovo Ah Finalmente C'è una Che si ricorda Che io Ho parlato Due secondi Fa Ti posso aiutare Un'edificio 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 200 euro Lo faccio Vai Ok Sì Un'edificio Nella mia Fattoria Questa Me la chiamava Fattoria Questa Questa missione È buggata Da tanto Devo dire È buggata Da tanto Raga È buggata Da un mucchio Di tempo Perché Già Mi è capitato L'altra volta Ripara Uno degli edifici E mo Ci sto a capire Niente Tutto fatto È tutto buggato Altro che tutto fatto Va bene Ah io direi che mo Andiamo a dormire Raga Facciamo passare Un po' di tempo Ma figurati Ho faticato Tanto A fare Il giro Dell'isolato Oh che cacchio È qua C'era la vista Tutta appannata Ok Partita salvata Ah hanno aggiunto Mo Che salva la partita Prima non salvava Mai Ok Qua c'è una missione Da trasporto Vai Facciamo pure Questo Sei bella E te lo devo dire Poi Sì Sono di nuovo io C'è qualcosa Sì Va bene Mi paga di più Per trasportare il pacco Che per riparare le cose Ok Ma Mi devo fare Tre chilometri Pick up Pick up Accidenti Ho sposato qualcuno Qua raga Ok Allora Consigliamo sto pacco E poi a nanna Direi Così Rivediamo un po' La situazione A chi lo devo da sto pacco Ah salve I'm here for the package Package Sure Here it is Ok Cos'è stai pulendo Il muro Mi ha dato soldi Non mi dico che devo tornare indietro per i miei soldi No Devo tornare indietro per farmi dare i soldi Ma che due scatole Ok raga Facciamoci pagare Per la consegna Dello pack Eccomi qua Here it is the package you requested Ah Thank you Here it is Ok Emily I soldi 335 Meglio da niente Vai Vediamo un po' la situazione Ma Qua cos'è Arare il campo Non ci penso proprio Ok Rimasta giusto un'ultima missione Allora ragazzi Andiamo a casa Vai Casa dolce casa Bene Partita salvata Ok Questi auto salvataggi Non sono una brutta cosa Visto che Ci ho avuto dei problemi in passato E' già ricresciuta la dannata erba Mazza Allora ragazzi Praticamente A parte aver reso più semplice il matrimonio A quanto ne so Hanno anche Messo Hanno anche messo Che mo' se può cucinare Ma dov'è la cucina qua Ah beh la cucina è questa A quanto ne so Eccolo qua Aha E che dovrei fa' Ah con il pomodoro ci faccio La salsa di mele Ah no Ah questo è il pomodoro E questo Cucina A zuppa di pomodoro E dipende Non c'è un cavolo Aspetta Non c'è niente Ma i pesci li posso pescare I pesci li posso pescare Andò a pescare due pesci Va Così li cucino Quindi praticamente Cucinando Raga Ovviamente Insomma il pesce cucinato È più nutriente del pesce non cucinato Beh ovvio no Eh quindi Canna da pesca E mo' Ecco ho visto un paio di pesci la E pegiamo due pesci che li cucino Così proviamo quindi la cucina Ho letto che una volta sposati La moglie può cucinare La moglie può anche raccogliere le uova Può mungere le vacche Quindi insomma Si rende molto utile A riuscire a convincerne una Però è il problema Riuscire a sposarsi È il problema Che famo pesci Non c'avete fame Vi siete messi a dieta Ci sono messi a dieta Si dannati i pesci Guarda qua Aspetta Beh almeno uno l'ho preso Vediamo se ne piglio un altro Raga Così almeno cucino due pesci Ma è una brutta cosa No magari stavolta più rapidamente Abboccate che dite Dai Oh di fatti Piano 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 Avanti due pesci vai Ho preso il pesce Era carino se si poteva fare Che ne so Pesce in salsa di pomodoro Per dire No era carino Se si poteva fare Invece no Dice solo pesce Solo pomodoro Allora Cucina Ah E invece c'è Io l'ho detto tanto per dire Invece c'è pesce in salsa di pomodoro Wow Ok Uno dice si ma l'hai letto poco fa No in realtà non ci ho fatto caso C'era scritto pesce in salsa di pomodoro Come non ho visto Come non ho visto in olio Ok pesce in salsa di pomodoro Vai Però potevano aggiungere i suoni Eh Potevano anche aggiungere qualche suono Qualche cosa Eeeh Quello E questo è in olio Non so il perché Va bene Facciamolo in olio Ah Potevo guardare quanto nutrimento mi dava Non cucinato Vabbè ma sicuramente Eh Da 45 Un pesce singolo Non dà di sicuro 45 Quindi si Sicuramente Da molto E di fatti Ma così Boom Reset Cosa? Addirittura posso Resettare Tutto Si Così Mi faccio tutto da capo Ah Vosti Vosti stato scemo Mi metto a rifare tutto da capo Eeeh Che poi il bello è che sta dannata porta è rimasta Oh Cavolo è l'attrezzo qua dove? Mani libere Riparazione No Mi serviva Eh no Mi serviva quello di Cos'era? Cos'è che serviva per sistemare sta porta? Il lucido Tanto l'avete visto no? Ogni volta che è lucido sta porta torna normale Ma forse che hanno fissato Perché credo di aver letto che hanno fissato questa cosa Comunque dormi una settimana Così magari intanto cresce il raccolto Ah Magari 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 Ok Ci sono uova nel pollaio Vacche da mungere E così via E lo so Apriti Apriti Allora Oh sfaticata Qua c'è stannicche Che muove mungere E insomma Otto di latte Buono 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 Le uova Andiamo a controllare le uova Allora Eccole qua Ogni gallina fa tre uova Ah beh C'è chi ne fa due Ma non si sforzano troppo Fa tutte ste uova Mazza quante uova che fanno a dire la verità Ciò 10 galline e me fanno 40 uova per dire che ne so Una trentina cioè 3 a 3 3 ciascuno mamma mia Ci avranno Ci hanno bisogno di una pomata nel sedere Va se devono mettere ogni tanto ste povere galline Va bene Ah dopo una settimana ovviamente qua c'è di nuovo la foresta Accidente si mette a piovere Oh ma il raccolto è pronto Bello Però non posso raccogliere Perché? Perché piove E raccogliere quando piove significa buttare il raccolto Quindi In questa giornata non possiamo fare niente Vediamo un po' ancora qui la serra nada Ok ovviamente Mo andiamo a corteggiare Mazza altro che piove Sta diluviando Ma sbaglio Non l'avevo mai visto la pioggia In sto gioco credo Però piove veramente Mi piace L'effetto della pioggia non è male dai L'effetto della pioggia è bello Soprattutto qui con queste pozzanghere Che si creano Questa è una cosa che mi piace Questa cosa mi piace Alcune cose mi sembrano fatte male Nel gioco Ma alcune cose sono fatte veramente bene Allora Andiamo a parlare con quella tipa Accidenti come piove Devo essere tutto bagnato Acquista il campo No non mi interessa Vediamo Magari forse Non stanno fuori Perché piove Ho letto anche che di fatti Tipo la moglie Ho letto che quando piove Non esce di casa Quindi mo mica li trovo io A ste ragazze qua Non le trovo No no Di fatti non ci stanno Però forse magari posso entrare Nella casa di questi No eh Accidenti E quindi mo oggi Non si corteggia Andiamo a dormire un altro po' Vai un altro Speriamo che smette di piovere Però Speriamo che smette di piovere Un'altra bella dormita Immagino che devo mangiare Ho dormito pure tanto Devo dire Vabbè Non c'ho neanche fame Dopo una settimana di sonno Non ho neanche fame Ma non smette di piovere Ma chiedo scusa Cosa domani Dopodomani Ah questo sole Non è pioggia Eh ma potrebbe Niente Continua a piovere Non ci posso credere Raga dopo Un paio di settimane Continua a piovere Ma che Ma che mese siamo In che mese siamo Non quadrano le cose Qui piove Basta Almeno posso Ma manco sono pronti Sti cosi Ancora qui Non c'è nulla Di pronto Allora Ancora pioggia Ancora Piove Ma non ci posso credere Raga Ha smesso Oh era ora Mamma mia Dopo due settimane Dopo 15 giorni Ho smesso di piovere Ma almeno Qua è tutto pronto Dovevo comprare Un po' di semi Però Dovevo comprare I semi Perché Credo che non c'ho più semi Allora Paglie così Andiamo a vendere Qualche cosa Perché non è che Non mi conviene Andare in giro Non è che mi derubano No Però Inutile che Mi tengo tutta Sta roba addosso Allora Sì Mi puoi aiutare Devo Dove No 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 Oh Devo vendere Ti interessa Trattare Ok Ok Allora Beh Troppi pomodori Troppi Ne vendo Me ne tengo Qualche cosa Dai Zucchine Ne vendo un po' Anche di questo Ne vendo 120 Bella Il latte Il latte Ma pigletilo tutto Ok Che c'hai da vendere Un po' Anello Mi 300 euro Ma lo piglio uno Ma sì Dai Tanto Ma tanto Io devo provarci a sposarmi Quindi lo piglio E via Ok Ah ah Questo Ah questo Ah beh Dai Ho comprato quello Da 180 Meglio Devo risparmiare Ok Non c'è Che è sto coso Flacone di profumo Eh Lo compro Va Ma che me frega Andiamo va Vabbè Ok Allora Vediamo un po' Beh Parliamo con Evelyn No no Parliamo mo' Dai Allora Sei di nuovo Tu so Sì so Nessun fiore È bello come te A proposito Con tutte ste cose Che ho comprato Qua Però non gradisce Non gradisce Niente Non gradisce Oè Pensavo Mi stava Dando un schiaffo Non sembri Così bene Stai bene Mi fa piacere Ah In bocca al lupo Bellezza Ma che cavolo Uffa però Ma che devo fare PN donne Sto gioco Ragazzi Ma proprio È una cosa Incredibile È molto carina Isabella Ti apprezzo Un po' Di più Quindi ragazzi Mi volete dare Qualche consiglio Io comunque Nel caso Il prossimo gameplay Lo faccio solo Quando veramente Qualcuna ci sta Perché se no È inutile Ovviamente Fare così Vabbè ragazzi Quindi spero che questo Che vi sia piaciuto Come sempre Mi raccomando Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel mi piace E ci becchiamo presto ragazzi Ciao alla prossima 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 Ciao alla prossima